L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola punta a realizzare nuovi parcheggi in marcia a piedi nella città di Agropoli. Nello specifico in via Dante Alighieri si punta alla realizzazione di un parcheggio libero sul lato della ferrovia tra la rotonda che conduce nei pressi del liceo Alfonso Gatto e l'incrocio che porta a via Taverne per una spesa di 169 mila euro da finanziarsi attraverso la contrazione di prestiti da realizzarsi con la cassa depositi e prestiti. Altro intervento previsto riguarda il parcheggio pubblico in marcia a piedi in via Padre Giacomo Selvi. L'importo per la realizzazione è di 350 mila euro. L'area in questione presenta diverse abitazioni, un supermercato, la chiesa Sacro Cuore, l'oratorio, una scuola primaria e la scuola dell'infanzia Selvi. Sebbene quest'ultima sia provvista di un parcheggio, occorre tenere presente che la richiesta dei posti auto è maggiore per la vicinanza dell'area a lungomare San Marco, specie nel periodo estivo. L'azione di riqualificazione della zona prevede anche la messa in opera di marciapiedi, ad oggi del tutto assenti, un'azione che potrebbe arrecare dei benefici importanti. I marciapiedi dovrebbero realizzarsi a partire dalla stazione ferroviaria fino ad arrivare alla chiesa Sacro Cuore, mentre il parcheggio, che sarà pubblico e non a pagamento, verrà realizzato di fronte alla chiesa. I terreni dove verranno svolti i lavori sono stati acquistati dal comune e i posti auto ricavabili sarebbero un grosso vantaggio per i residenti e non solo, considerato che in molti casi le auto vengono parcheggiate lungo la strada, creando spesso disagi alla circolazione veicolare e ai pedoni. Le opere pubbliche sono inserite nel programma triennale 2020-2022 e nell'elenco annuale 2020 dei lavori pubblici, approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 69 del 16 ottobre 2020 e poi aggiornati con la deliberazione di Consiglio Comunale numero 78 del 30 novembre 2020.